Ciao a tutti amici, bentornati in questo nuovo video, oggi sono con mia mamma, faremo un trucco da Maranza su di lei. Iniziamo subito con un po' di correttore, andiamo. Allora, lo metto sotto agli occhi abbondante e sui punti luce, tipo sulla fronte, un po' qua sotto e un po' qua sotto. Adesso sfumiamo con la Beauty Blender, pronta, guarda verso su. Ok, o ma se ti faccio male dimmelo eh. Vai, vai. Ok, così va bene? Sì. Ok. Sicuramente verrai una bellissima Maranza. Già rido. Poi sfumiamo qua per dare un po' di colore qua sotto. Ok. Ok. Ok, abbiamo applicato il correttore, adesso vado a mettere il contouring, che voi sapete che è importantissimo. Ecco qua, questo è il contouring che è di Kiko. Ok, allora il correttore lo metto qua per scolpire, gira, di qua, qua sopra, in fronte e qua sotto. E un po' sul naso, per farlo un po' più snello. Sfumiamo il contouring con una Beauty Blender. Ok. 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 Tra poco ti opacizzo tutta con la cipria. Speriamo basti. Eh sì. Ok, allora abbiamo messo anche il contouring. Si vede poco dal video, però vi assicuro che è molto bello. Adesso andiamo di cipria bianca. Ho preso la cipria, questa raga è quella in polvere, quindi dobbiamo fare molta attenzione, se no soffochi. Nulla. Eccola qui. E la vado ad applicare con questa pezzettina qua fatta apposta, che l'ho presa apposta da Essence. Applichiamo la nostra cipria, mettiamo qua sotto per fare un po' di baking, girati, e qua sotto. Aspetta. Ok. Perfetto. E la mettiamo anche sotto agli occhi. Ok. Non star nutire. Ok, adesso la lasciamo un po' riposare e fra poco la tolgo con il pennello. Tipo cla... Ok, adesso la spolveriamo un po' con il pennello perché è effettivamente troppa. Ok. Serve solo per fissare. Alza, guarda su. Ok. Un po' fastidiosa. Un po' polverosa. Adesso vado a mettere un po' di cipria colorata. Qua sugli zigomi per scurirla bene. Girati. Brava. Bravissima. Ok. Allora, adesso andiamo un po' di blush che la voglio fare bella rossiccia perché le maranzine sono belle rossicce, quindi ti faccio bella rossiccia. Se non l'avessi capito. Rossiccia. Guarda qua. Guardate quanto bella. No, mamma, sei troppo bella. Anche un po' sul nasino. Girati. Brava. Così, eh. Ti voglio bella luccicante oggi. Guardami. Purfua. Adesso tocca la parte fondamentale. ovvero l'illuminante che io vado ad applicare con le mani perché deve essere molto intenso. Più intensamente sul naso. Guarda quanto sei bella. E sugli zigomi. Andiamo qui sugli zigomi. Ok. Girati. Ok. Perfetta. Guarda quanto brilli. Sembra una stella. Dai, mamma. No, ma guarda quanto sei bella. Bellissima. Passiamo alle sopracciglia. Ovviamente devo farle il taglio al sopracciglio perché le maranzine hanno quello. Quindi iniziamo con il pennarellino. Te le faccio solo un po' scure adesso. Ok. Gira. Ok. Adesso per il taglio al sopracciglio applico un po' di correttore nella parte del sopracciglio in mezzo. Quindi andiamo di correttore. Girati. No, di qua. Tac, tagliata. Ok. E adesso sfumiamo con la Beauty Blender in modo da non far vedere la distacco. Ok. Adesso ripasso il taglio con la matita marrone per le sopracciglia. Vieni qua. Girati. Ovviamente non andate a coprire la parte con il taglio. Così. Sto a fa male? No. Ok, perfetto. Tadam! Guardati! Tagliata! Oh, sembra vero. Ok, adesso passiamo agli occhi e vado a mettere l'eyeliner. Ci faccio prima un po' la linea dell'eyeliner e poi andiamo a fare dei tatuaggini finti. Finti! Ma finti! Va bene, va bene. Proviamo. Vabbè. Allora, ferma, 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 che questa è un passaggio dolente, eh. Ok, ferma. Sta rilassata. Bello! Mamma, ma sto bravissima. Stai rilassata. Mamma, devi stare ferma. Mamma, aspetta, non ride. Scusa. Mamma, sei in pagliaccia adesso. Guarda, scusa. Mamma, aspetta, ferma. Ti sei sporcata tutta. Mamma, mi fa piacere lo struccante. Ok, dato che sei fatta prendere un po' dalle risate, la vado a struccare e rifacciamo da capo. L'eyeliner. Ti sto facendo male, eh? No. Bene, te l'ho tolto. Ok. Adesso ricominciamo. Sto seria. Ricomincio dall'altro occhio. Ok. Adesso mi sembra venuto molto, molto meglio. Oh, guardati. Bello, vero? Sì. Ci sta adesso. Sì, ci sta. Facciamo nell'altro occhio. Stai seria stavolta? No. Bene. Manca poco, quasi fatto. Quasi fatto. Quasi fatto. Fa vedere? Apri? Eh, eh. Ci sei, ci sei. Ok, ho fatto l'eyeliner. Adesso andiamo a fare un po' di tattoo con l'eyeliner. Ovviamente le faccio una crocetta, una croce sotto all'occhio. Che ripi. Ok, te lo faccio qui una croce. Ui, è venuta bella grande. E' venuta bella grande. Bello, eh? Tatuata io. Mi sento malissimo. Va bene, la croce ce l'hai. Qui no? L'eyeliner ce l'hai. Ti manca un po'. Ah, di là anche? Ok, allora di là ti faccio un cuore spezzato. Sì. O te faccio una scritta. Quello che vuoi. Te scrivo Giulia. Vabbè, lo facciamo un po' aca... Ops. È caduta mia. Bella io. Bella te. Bellissimo, va bene. Adesso mettiamo un po' di ombrettino luccicante negli occhi. Al volissimo. Lo facciamo, prendiamo questa palette e lo facciamo sui toni un po' scuri. Metto un po' di marrone sulla parte esterna della palpebra. Qua. E al centro i brillantini. Questi qui. Guarda, gira. Perfetto. Lo faccio lo stesso anche nell'altro occhio. Mettiamo il marrone. Giro di un poco. Sfumandolo un po'. E dentro i brillantini. Ok, apri gli occhi. Guarda, è perfetto. Ti piace? Molto. Sembra che le lauro. Più o meno. Raga, è arrivato il momento delle ciglia finte. Prima metto un po' di colla e poi te le attacco. Sei pronta? No. Ok, ho messo le ciglia finte. Guardate quanto è bella. Adesso facciamo il contorno labbra. Con questa matita. Ok, adesso stai con le labbra tese. Tese. Così. Brava. Te la faccio un po' fuori. Oddio, sei sbeccata. Sbeccata, sì. Rimetti la bocca tirata. Brava. Così. Oddio, sei sbeccata di nuovo. Adesso metto il gloss opaco. Vi so dove ho messo la matita. Così. Anche l'altro. Che bello. Ti sta benissimo sto colore. Fatti vedere. Dura. Bellissimo. Brava. E terminiamo con un lip oil trasparente di essence per fare un po' di scintillezza. Fai così. Guarda. Ma guarda quanto sei bella. No, sei stupenda, Maranza. Bellissima. Ho fatto sciogliere i capelli e ho aggiunto anche questo bellissimo chain. E adesso manca il tocco finale. Ovvero il vestito davvero Maranza. La tec. Questa felpa qua. Ecco la tec. Allora, questo è il make-up terminato. Cioè, questo tatuaggio si è un po' rovinato, però il resto mi piace. Guarda che bello. E questo è con la tec indosso. No mamma, sei troppo Maranza. Te lo giuro, spacco fra. Troppo brava. Ok raga, questo make-up direi che può essere terminato. Adesso fatemi sapere nei commenti il prossimo che volete vedere insieme a mamma. Prossimo make-up, prossimo video. Facciamogli vedere le magliette che abbiamo. Tadà, non le ho fatte io. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto. Mettetemi un like e iscrivetevi al mio canale. Io vi voglio un sacco bene. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Ciao.